Il networking non l'ha inventato nessuno. Esiste dalla notte dei tempi e tutti noi siamo networker. Sì, lo facciamo nella vita di tutti i giorni, quando ad esempio diciamo vai in quel ristorante lì a mangiare il pesce che è freschissimo. Oppure vai in quel bar là che fanno un caffè strepitoso e sono anche gentili. O ancora, quando consigliamo il nostro meccanico di fiducia e diciamo a qualcuno guarda, non solo è bravo, è anche onesto. Anche questo è networking. Ma chi di noi nel mondo del lavoro utilizza questo strumento, il networking, in modo sistemico per crescere insieme? E chi di noi si sentirebbe tranquillo all'idea di condividere le proprie conoscenze e competenze magari con un'azienda estranea? Provate a immaginare un luogo dove tutto questo è possibile. Dove tu dai, ma sei sicuro di ricevere. Dove si vince tutti insieme. Perché la fiducia fa da collante a tutto ciò che accade. Sarebbe più bello il mondo del lavoro, vero? E questa è la formula per fare networking in modo efficace. Provate a immaginare che un vostro concorrente, ce l'avete presente? Un giorno potrebbe aiutarvi a risolvere uno dei vostri problemi e voi fare altrettanto con loro. Provate a immaginare di poter ricevere i feedback per sapere se le informazioni che avete ricevuto sono corrette, non solo. Sono le migliori, non solo, in un tempo più corto. Come sarebbe lo stress della vostra giornata lavorativa? Più alto o più basso di oggi? Ma parliamoci chiaro e facciamo un passaggio insieme. Ditemi, chi di voi è stato tradito nel mondo del lavoro? Pieno di mani alzate. C'è qualcuno che per caso ne vuole alzare due? Ho visto uno che ha alzato anche una gamba. Pensate anche a me, che ho iniziato in mezzo alle viti. Bello, direte voi. La natura, il vino buono. Le viti erano queste, però. Ho iniziato come responsabile coetà in un'azienda che produceva proprio viti e bulloni. Poi ho fatto l'amministratore legato di una multinazionale, ho lavorato in Italia, ho lavorato all'estero e nel 2006 ho iniziato a fare l'imprenditore. Tutto questo, devo ammetterlo, con un inglese da cani. In che senso direte voi? Per dire grazie a qualcuno dicevo good boy. Ho scoperto solo un paio d'anni fa che in inglese lo dicono solo i cani. Era il 2014. Andava tutto molto bene. Poi vi voglio raccontare cosa mi è successo tutto insieme. Mentre stavo gestendo uno dei contratti più difficili della mia carriera professionale, gestivo solo per quel progetto più di 50 persone, lavoravo 12-14 ore al giorno, cosa mi è successo? La mia compagna è stata ricoverata per una grave malattia in ospedale. È stata malissima, è stata operata e dopo lunghi mesi, per fortuna, è guarita. Nello stesso periodo, purtroppo, hanno ricoverato anche mio padre. Sempre per la stessa grave malattia. Lui ha lottato come un leone, ma alla fine ci ha lasciato. Lui non ce l'ha fatta. In quello stesso periodo, il mio miglior amico, dopo 17 anni, sapete come non mi ha aiutato? Nel frattempo era diventato mio socio. Mi ha rubato i clienti. Tutti i clienti. Potete immaginare come sono rimasto. Pensate che, due anni dopo, quando è stato condannato davanti al giudice, ha detto non so neanche perché l'ho fatto. Come potete immaginare, ero distrutto. Stavo malissimo, una coltellata al cuore. Mi sono ammalato e mi sono dovuto curare. Le ho provate tutte. Psicologo, agopuntura, chiropratico. Chi più ne ha, più ne metta. E per fortuna, dopo nove mesi, sono guarito. Soprattutto, devo dire, grazie alla vicinanza delle persone a me care. Dovevo ricominciare tutto da zero. Prima di tutto mi sono chiesto, chi vuoi essere? Una persona che aiuta gli altri a risolvere i problemi. Problemi di lavoro, ovviamente. Pensate che mi chiamavano e mi chiamano ancora Wolf, come il personaggio di Pulp Fiction che risolve i problemi. Poi mi sono chiesto che cosa volevo fare. Volevo occuparmi di innovazione e di trasformazione digitale. E volevo fare, incontrare le persone. Fare networking. Un termine che in Italia si usava ancora veramente poco. Magari qualcuno di voi se lo ricorda. Si usava di più sinergia. Networking è una competenza che sempre di più dobbiamo avere nel mondo del lavoro e dovremo avere nel mondo del lavoro. E questo non ve lo dico io. Lo dicono i massimi esperti di settore, tra cui Seth Godin e Simon Sinek. Poi mi sono chiesto come potevo lavorare. Avevo degli attacchi di panico e non riuscivo a uscire di casa. Quindi dovevo lavorare in posti dove mi sentissi bene. E soprattutto dovevo lavorare da remoto. Oggi, dopo la pandemia, sono capaci tutti a lavorare da remoto. Anche i bambini con la DAD. Ma vi assicuro che nel 2015 lavorare a distanza, anche con aziende strutturate, le banche, le assicurazioni, era tutt'altro che facile. Giusto per raccontarvene un paio, mi capitava delle risposte del tipo quel giorno non possiamo perché la stanza delle videoconferenze è occupata. La stanza delle videoconferenze. Oppure non possiamo collegarci con Skype perché i nostri firewall non ce lo permettono. Eh, vabbè. In questo periodo mi sono reso conto particolarmente di quanto fosse importante la gestione del tempo. Dovevo abbandonare l'idea del multitasking. Magari a qualcuno di voi è già capitato. Dovevo suddividere la mia giornata in tanti singoli task da 25 minuti ciascuno, dove rimanere super concentrato, senza distrazioni, per non sbagliare. Magari a qualcuno di voi è capitato che mentre stavano facendo qualche cosa gli è successo di una distrazione, un video, la televisione, una mail, e il risultato non è venuto un granché. Magari durante il look down è successo anche a voi questo esempio di multitasking. Poi mi sono chiesto con chi volevo lavorare. Solo con persone, manager, che avevano voglia di condividere le proprie esperienze e conoscenze anche con gli altri. Sentirmi manager insieme a questo tipo di manager. E prima di iniziare questo progetto nel 2015 ho chiesto a due persone che io non conoscevo, ma si presentavano come massimi esperti di marketing, la loro opinione sul mio progetto di fare questo modello di networking. Oggi vi racconto che cosa mi hanno detto. Alberto, non farlo, aiuto. Le aziende non credono e non investono nel digitale. Mamma mia. Nessun manager ti condividerà mai le proprie esperienze e conoscenze e oltretutto i manager non sanno e non vogliono fare networking. Disastro. Ma io ci credevo. Quello era il mio sogno e non ho mollato. E dopo essermi confrontato con un paio di persone che ritenevo veramente top abbiamo deciso di non seguire quei consigli e di implementare e di creare questo modello di networking che in Italia ancora non esisteva. Questo modello di networking oggi conta più di 2000 manager dove ci confrontiamo tutti i giorni su temi di strategia di business, di innovazione e di strategia digitale. L'obiettivo del networking è sempre organizzare l'incontro giusto nel momento giusto con le persone giuste. E l'originalità di questo modello è che ogni manager del nostro network chiede aiuto quando ha bisogno in cambio fornisce la propria disponibilità per aiutare gli altri oppure per certificare persone, fornitori o soluzioni. E l'originalità di questo modello è che tutti con dare e ricevere sono incentivati a partecipare. Voglio spiegarvi questa slide in 20 secondi. Come funziona? Tutte le persone del nostro network, di tutte le persone sappiamo in che azienda lavorano, cosa fanno, quali sono le sue competenze. Così quando riceviamo una richiesta di aiuto in ambito lavorativo cosa facciamo? Selezioniamo alcune di queste persone, le coinvolgiamo, gli sottoponiamo la problematica in modo anonimo, loro ci raccontano semplicemente le loro esperienze e come l'hanno risolto. Noi selezioniamo quella che secondo noi è la migliore rispetto alla richiesta e non ci fermiamo qua. Cosa facciamo? Chiediamo al fornitore, tu perché hai lavorato? Ok. Scegliamo un altro manager che abbia lavorato presso uno di questi clienti e gli chiediamo di verificare che abbia lavorato veramente bene. Solo a questo punto organizziamo l'incontro con chi ci aveva fatto la richiesta. E in ultimo, diamo i feedback a tutte le persone che hanno partecipato e che sono state coinvolte. Questo modello di networking è come un ecosistema ed è basato sulla fiducia. Fiducia che quella cosa che io avevo perso dopo essere stato tradito è diventato il punto di forza del nostro network. Fiducia vuol dire essere presenti, vuol dire essere trasparenti. Fiducia vuol dire soprattutto non tradire i propri valori. Ed è grazie alla fiducia che l'84% delle nostre richieste hanno trovato una soluzione. Fiducia è anche rimanere in contatto con le persone. Ci sono mille modi. Ognuno può usare quello che vuole. Può fare le telefonate, il messaggino, la mail, gli aperitivi, i pranzi e le cene. Io li consiglio perché mi diverto molto. Io, ad esempio, consiglio anche un piano di comunicazione, soprattutto perché abbiamo duemila manager. Io cosa ho deciso di fare, ad esempio, due anni fa? Di fare delle videoclip di 30 secondi dove ci mettevo la faccia e di pubblicarli su un social network professionale che è Linkedin. E questi video, che iniziano tutti con ciao 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 a tutti, fanno parte del Network Day, un giorno intero dedicato al network, ogni mercoledì, tutte le settimane. Questo è rimanere in contatto con le persone. I video che ho girato da Milano a Dubai e dal Salento ai Caraibi fanno generalmente 5.000 visualizzazioni tutte le settimane, ma soprattutto io ricevo 500 messaggi ogni settimana a cui rispondo singolarmente, uno a uno. Questo è rimanere in contatto con le persone. Ci sono molte cose che ho imparato in questa esperienza personale e professionale. Oggi voglio condividere con voi le prime cinque. Volontà. La forza del network sta nella voglia e nel desiderio di aiutare gli altri e anche nella velocità di dare le risposte. Confronto. Parlare con gli esperti di settore ci aiuta ad ampliare i nostri orizzonti. E chiedere l'opinione a persone che noi stimiamo, sapete cosa fa? Ci aiuta a capire punti di vista diversi. Autorevolezza. Incontrare persone, manager e imprenditori fa crescere il nostro know-how, le nostre competenze. e questo aumenta la nostra autostima. Feedback. Il network, per essere efficace, ha bisogno di cure. Ha bisogno di attenzioni. Ha bisogno di feedback. Deve essere nutrito, proprio come una buona relazione nella vita di tutti i giorni. Relazioni. Facendo networking attraiamo persone come noi, con i nostri stessi valori. E vi assicuro che spesso capita che relazioni professionali si trasformino in relazioni di amicizia. Però, questa rivoluzione del networking non si può fare da soli. C'è bisogno di persone aperte al cambiamento come voi. Perché, come sappiamo, insieme si va veloci. No, da soli si va veloci. Insieme si va lontano. Concludo. Alberto, impara ad aiutare gli altri. Sarà la cosa più importante in tutta la tua vita. Me lo diceva sempre mio padre. Ed è stato questo il consiglio che mi ha ispirato a fare networking e che oggi spero sia di ispirazione anche per tutti voi. Grazie. Grazie.